buonasera amore come sei bella stasera ciao caro mimmuccio buonasera ragazzi che fate di bello stasera non si vede margo non si vede perché tengo il telefono craccato però ho detto che ti amo margo sono una tua fan margo margo salva la mia amica checca allora tu come ti chiami? è caldo è caldo è caldo non mi ha fatto mai allora pure ma venga aspetta un po' di sparatrack sparatrack è caldo margo per gli amici scassami Nicola Deciana mi saluti? dico sperate ma mi troppo grande sto muroendo mamma mia Mari Capalumbo perché amore sei affascinante grazie tesoro Raffi Salem mi saluti? un bacione vita oh tra sciamma regina ciao regina no regina se tu hai ah io sono regina questa mano questa regina amo però ti ringrazio ti amo ammazzati mammo zio ammazzati devi morire mammo checca mi saluti? un bacione checca ragazzi dove state stasera? tutto a dormire io sono sempre sveglia sono sempre attiva grazie Pintorenzo sono come una batteria grazie Pintorenzo chi? un bacio a Pintorenzo Pintorenzo pittami non sia Fiorillo ti sei fatta nera? si amore sono sempre nera sono stata Tania maga mi saluti? un bacione Tania grazie 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 Anna maesco il rivisto vanno da diva no ragazzi stasera sono tutto scicca per voi sciaccatami sciaccatami sgraami rompami dove state? non vuoi divertire dove state ragazzi? non penso che state ancora dormire fa caldo 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 incontri suci maesco il rivisto e non vado a pittare martì fabolosa grazie un bacione mammo maesco maesco sei sei bellissima Margot. La Enza Adriano. Gli dici alle persone che la Enza Adriano per te chi è? E' la mia vita. Ma adesso è la mia vita. Adriano, chi sei sei? Non lo so comunque. Ma adesso mi ha chiamato Adriano. Sì, ma sgranato Adriano è stato il primo uomo della mia vita e lui mi ha sgranato nella festa panetteria. Rita Antonio, mi saluti dalla Francia. Rita Antonio un bacione dalla Francia, un bacione per Margot. Riccardo Adriano che è Pitu Renzi. Pitu Renzi. Ora mi sono sicuro, ma mi sono sbagliati, ma mi sono sbagliati e mi sono sbagliati. Ma non mi sono sbagliati, ma non mi sono sbagliati. Antonio del Prete, mi saluti da casetta. Un bacione, Antonio. A te tutto casetta. Ma non mi sono sbagliati. Ma non mi sono sbagliati. Ma non mi sono sbagliati. Insieme a Vittorio Pazziale, chi dà muo? E' sempre più normale. E' ma quando viene ora? Per essere a vita rossa. Grisco. Oh, Enzo Chirollo. Ma qua. Enzo. Ciao, Enzo. Si è bellissimo. Margot, ti devo scassare sana sana. Quando vedi in Francia? Amore, sarà il giorno che io vengo in Francia. Alla volta già in... Ti saluto a te tutta la Francia. Un bacione. Buona sera, Enzo. Vuoi accettare le richieste? Ma... Stiamo pure, Enzo. Stiamo assai. Andiamo a mozzo. Buona sera, Enzo. Zuzù, ma quando viene? Allora per un sporco. Quando viene? Per piacere, mi puoi salutare. Mi chiamo Giulia e soprattutto puoi salutare che capostiglione è Arianna. Allora, tu come ti chiami? Allora, io mi chiamo Giulia. Puoi salutare due mie amiche? Sì. Non si chiamano? Arianna Postiglione, Checca Postiglione. Allora, Arianna Postiglione, Checca Postiglione. Tanti saluti per la sua amica. Arianna Postiglione, sì. Arianna Checca. Arianna Postiglione, per le sue amiche. Un bacione per le persone. Arianna Postiglione, per le sue amiche. Un bacione 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 per il mio Chic? Enzo Gormini ti amo, si sembra la vita nostra. Un bacione. Enzo, continui che stai ascoltando. Adesso, come si chiama la Francia? Come si chiama la Francia? Ti faccio divertire un po', accettami la richiesta e ti faccio divertire un po'. Grita Antonio, rimandala. Enzo Gormini. Ma la vedete com'è sta bella stasera? Oh frate, vada questa vita. È rimasto mai qua. Perché non lo sai di lui, ti sai dire. È bello. Tu sai di chi? Cri cinque, scasso, no Margot. Amo, mi ha scasso a tu, mi chiede, ti sbagliare. Scassi, Margot. Scassi, Margot. ti sposti un attimo, mi piacere, voglio far vedere il nostro amico qui siamo in un luogo di villeggiatura, ragazzi a me è impossibile siamo amiche se lei lo dice io per me, per me sembra che non so che le persone con ticchitane ma io sono sempre quando vanno a morire ha detto ma che è tutto il suo comando oggi quando vanno a morire ha detto mamma ci stai molto più, no? quando vanno a raffita siamo 90 persone che ci stanno guardando siamo 94 adesso ma che cosa vuoi dire a queste 94 persone? sulla mia vita li amo a tutti e vi voglio bene e voglio che loro hanno sempre il sorriso sul viso Tania Di Martino ciao Tania Tania Di Bruno grazie a voi qui dove siamo andati? sono andato a lavorare adesso è quello e ci si ha quasi che lavato il piede eh sì fa caldo ma è bello quando fa caldo facendo un saluto fai un saluto al locale a Marcord ad Ancona con un bel fischio un passone ad Ancona Margo che taglia porti di seno qua stanno chiedendo? io la tezza però mo li facciamo ma come si tosco ma la cassa non li c'è però mo grazie vedi che abbiamo voluto lavorare io per fare per accortare il segno no non dico niente quando saremmo meglio ce le faccio vedere ah non dico niente faccio gli schippetisti non ti piace parlare e dico che lana lì stai scassato calù questa è bella questa sera grazie allora ragazzi adesso facciamo una cosa andiamo nelle nostre persone dove stanno seguendo e a casa clicchiamo su qualche nome vediamo chi esce e poi c'è una manchetta insieme a lei che ti fai a dire? che ti fai a dire? niente ti fai a dire guarda guarda Panterone si è nato grazie Salerno Valentina Panterone ti fai a favore un bacione non è non quello ma ti fai a kaikò dove è? vittoro dov'è? T' Arrivedo vittoro dove vedete? ha un bacio vuol lui ha la colore allora l'az��는 avere hai deinici è scond separate un abbraccio da Pestum Pestum scranato Marco, saluto a Jenny De Pompeis Jenny, il passiono ma non è che sia un parente del nostro amico Jenny Marco, saluto a Jenny De Pompeis per favore qui abbiamo un amico De Pompeis ma che fai un saluto con i fischi a chi? ma che fai un saluto? a chi? a chi? Jenny De Pompeis oh, vamoci, vamoci Ma no, il primo francese è il 40, Vittorio, fa la paura, diceva per la francese. Non c'è la verità francese. Mi si è vado a dare. 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 La Ezz Adriano, un bacio al nostro amico di sempre, Margù. Un bacione al nostro secolo. L'Italiano, adesso passo. Ora passo. A metterlo passo. Rossa eri bella, ma Bruna sei ancora più bella, perché le more rapiscono. Lo so, amore, intanto ieri mi hanno rapito. Ma che mi sono tu sacchetti della pagina. Grazie, amore, ti amo. Anche tu sei bellissima. Fai gli auguri a Mariana per il suo compleanno. Auguri a Mariana e tanta felicità. Adriano, ma non scegli più. A pezzicato. Michele Vigione, mi fai salutare? Ciao, Michele Vigione. Ma la vedete com'è sta bella questa sera, questa ragazza? È proprio una ragazzina. Ma cadere? E' domatta. E la risponde? No, per stare a leggere così. Dove te ne vai di bello sta sera, Margo? La verità, sta sera dura domenica. Magari ci diamo, eh. Sono andato a fare un giro per fare un po' di accassone. E poi mi sono venuto qua. Per giocare un po' con voi. Per dare un po' di felicità a voi. Stavate Martino, stasera sera più selvaggio. Grazie a voi. E' bellissima, no? Grazie a voi. E' bellissima, no? Stavate. 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 Antonio, manda la richiesta. Stavate. Facciamo la richiesta. Allora, magari tu voglio Antonio del Prete. Fammi contente, facciamo una diretta insieme in due minuti. Vabbè, allora. Ehi, manda la richiesta. Edeki? No, no. Dio. A buon anno, sì. Aspetta, non si vede Ti amo Marco, ma vedi? Dimmi, te solo Aspetta, ora mi vedi? No Ma come Ma no, come non si vede Aspetta Ma si vede? Niente, no Ma no, no, però Ma no, come è? Ma come non si vede Stacca a chiamare da voi Stacca a chiamare da voi Eh Ciao amore, sono Nicoletta Ci siamo visti prima, mi saluti Ciao Nicoletta, amore mio Ma che casomiglia alla sua professoressa d'inglese Davvero, grazie Ci vuoi vedere un po' come tu sai parlare il... C'è il tuo nome? No, non ci vuoi parlare di una lingua Sì, è una verità Perché non ci vuoi parlare di una lingua Perché non ci vuoi parlare di un suono Facci un pochettino di straniero come sai parlare tu La taraccia della calaccia in mezzo a bianca per la città Questa è la rima di Salania, di Zbe La lettera arabo Adà Questa è la bambola di porcellana, bellissima Perciò sono ragazzo, mi sono un po' spaccato. Grazie, lo sai, io schizzo sempre, è sempre un progetto, per me andiamo a pomogoro, mi tornerò un attacco. Così mi fai emozionare, ti amo. Anche amore. Antonio del Prete, muovermi su, guarda sì. Domenico Cavallo, non ho una dedica al mio felice. Domenico. Domenico. Fai non sapere, frate, non sapere niente. Wow, m'annaggia, la miseria, m'annaggia. Appassimiamo che finisci il video. Amore, tengo pure la luce afficciata, come non sapere niente, m'annaggia, la miseria. Marco, come ero fatto? Ah, Gigi? Fa una cosa, quant'è stato? Ah, corro subito, a te corro subito. Ah, ma non è buono felice. Erozi, è caldo, è caldo. C'è fatto male. Ma non mi sta bella, Claudino, ma non mi sta bella, no? È caldo. Ma non mi sono incinta, ma se hai ancora il fatto? Adesso mi hanno detto che ho vinto, ma io ho detto che è stato un pulsante. Secondo me, non mi sono accaduto. Certo, ma? Non mi sono accaduto. Non mi sono accaduto. No, non mi sono accaduto, non mi sono accaduto. Ferdinando Simonetti, Margo tutto bene? Sì amore, Simonetti, scassi maledà volmente, ti sento. F Moccia, magari te li vediati tutti quanti tu i carci, magari. Amore si capisce, te li vediati tutti quanti tu i carci. Ragazzi, mi fanno per il diretto. Mi saluto a Gioele, Lucia Dansega, mi saluti? Lucia, ti amo. Allora, io ti guardo una cosa, però. E' uguale. Aspettate. Quella. Vai, che re. Ma è quasi più bello tu, giù. Mi credo. Guarda che musso per te, nuova maronna, amico. Fanno poca tigre, stanno dicendo. Pfff. 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 Ttigreぐje due. Pfff. Pfff. Mach. Posso ad Assunta di Roccarainola… Assunta… Pacione… Ti voglio tenere. Mari Cavallumbo con musso provocante li fai innamorare tutti pare che le ho padre si è forte ho fatto i battuti grazie lo so ragazzi è qualcuno che sta guardando è bravo a fare queste cose facendo qualcosa di divertente mi taggate e io vi riposto e parlo a prendermi tu guarda la posta c'è andato a casa lì magari posso scassare vicino alla macchina non lo voglio scassare un punto per la palla ma se non mi scassa Giulia ti voglio accettare ma non mi fai accettare perché non lo vengo ecco io Riccardo Miele mi propongo ok Riccardo non mi fai un poche miele cosa ci hanno un latamento non miele perché ti voglio accettare Riccardo oh oddio oh oddio aspetta vuoi girare la sua fotocamera bravo marco scassi ci facciamo un selfie marco amore ci facciamo un selfie con le mie sorelle aspetta Allora, noi ti seguiamo da quando tipo andavi passato scecchietto. Eh, capa. Mamma, guarda, ci sta Margot! Aspetta, anche mia mamma è capata, pur babbo. Aspetta, Margot, tu sei Margot, ammi. Non viaggia. Non viaggia. Che be'? Margot, grazie, grazie Margot. Guarda, mi? Mamma, ti adoro, ti amiamo, Margot! Ti amiamo, ti giuro che amiamo! Aspetta, vai un trattore, uno! Ciao, Margot! È stato un piacere, buona serata! Buona vera tua sorella! Ma no, dammo! Anch'io! Ma mi vado a giudicare, questo mi è bello, ma anche questo mi sono contento. Ma a me mi piace una questione ad essere più solito, andare a sorridere. No, ma devono sorridere. Io voglio ammazzere, scherzo per far sorridere. Voglio che sorridere, non che non stai triste. E poi ci stiamo accoglionati, no? E poi ce ne andiamo. Ciao! Corridere a pensare, per te, 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 per te. Ti ricordi che cosa diceva? Che tu, per te, 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 per te? Ma la ragazza è santa. Ma non ti vedo, tesoro. Sai quando ho nascondito? Sì. È unica, Margot. Grazie, amore. Passo. Stai troppo aggressivo. Ma è aggressivo, già adesso. Sì, no, come scherzo con voi. Faccio ad aprire il diretto. Lasso, ma vai male. Mi fai male, ma non mi chiede così. Agli anni. Wow. Bellissima. Sei bellissima. Sei la più forte. Sei stupenda. Stai a posto? Sì, è tutto a posto. Diciamo. Sei bellissima. Diciamo, ti vedo in splendida torna. Vieni qua. Ci sta, mia nipota è pazza di te, però si mette vergogna. Perché? È pazza. È piccolina, ha cinque anni. E io, in particolare, sono la mia vita. E io, in particolare, sono la mia vita. E io, in particolare, sono la tua vita. Manda un bacio, hai smargo. Va bene. Ciao, Mago. Ciao, ragazze. Vi voglio bene. Fu a noi. Grazie. Allora. Vincenzo, rimandala, rimandala. Ah, seconda, trenta. Allora. Stai a mettere trenta secondi e stai a mettere quello. E poi manda a schiena, no. Oh, vedete che mi senta la coppia, c'è il capo di un bacio. Non c'è. Manuè, mandami una richiesta, dà certo. Manuè. Conosciamo anche Emanuele. Ma conosciamo pure Emanuele. Emanuele, adesso, fatta per te. Fammi pulire un colto, il tuo colto. Ah, troppo pure. Si, l'ha facciata tu. Emanuele, oggi ho accettato. Ma non va nemmeno. Sì, ha già fatto i capelli. E non solo, amore. Mi ha fatto, come fa, che ero a cinquanta anni, come fa. Mi chiede, dà, dà, dà. Come fa? Mi chiede, dà, dà. E non si vede, ti dà una pardù, che aveva i buchi. Non c'è. Emanuele, mi chiede. Io sono una persona affettuosa. Io amo e mi faccio amare. È la cosa più bella. bella, sei forte. Ma sei proprio forte. Adio. Ciao, papola. Passami. Ma non mi sei forte. Non mi sei buona. Buonasera, tu adio. Ciao, ciao. Ciao, belli. Ciao, ciao, bella. Oh, ma stanno dicendo. Ciao, bellissimi. Ti adoro. Anch'io. Oddio, che bella. Facciamo un selfie. Ah? Un selfie, dai. Marco, fai il fischio. Strano. Sei unica, sei unica. Anche voi, mi voglio bene. Ti vedo sempre, dignelo tu che mi vedete. Ciao, Marco. Stato qui, sono. Sei unica. Dove siete? Dove siete? Lei di Napoli. Cioè, io sono di Napoli, per ora sto in Basilicata. Ah. Divertitevi. Però ti vedo sempre, ti adoro, mi ferite. Grazie. Grazie. È una cosa più bella che ammalire. Non ammaggia. Sei simpaticissima. Troppo forte. Sei simpaticissima. Grazie. Sì, anche tu. Lui si chiama Emanuele. Gli ho fatto vedere il video tuo, quello che hai fatto con la parrucca, Emanuele. Ah, la parrucca a biondi. Troppo forte. Oddio, unica. Ti auguriamo tante cose belle. Grazie. Grazie mille. Vi voglio bene. Ciao. Ciao, Marco. Ciao, tesoro. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. ma l'abbasito uno ultimo io amo tutte le persone un po' cattivo si vede che ci ha visto di problemi ma lo voglio bene tutti ciao amore ora siete venuti mi chiede e che ti applica a camminare guarda guarda vittami come sei? bene perché sei bello sei simpatico mi fai rire grazie tu aiuti tanto le persone che purtroppo stanno chiuse in casa e proprio il tuo divertimento fai pagano poco io sono contento che stanno belle e sorridano questo vuoi che devo sorridere purtroppo c'è non scendo in mariana che hai detto purtroppo c'è non scendo in mariana però almeno tu fai pagano poco lo voglio lavorare a divina e l'hai parlato in potenza anche in a me è sempre un'amica si troppo bello però ma io te ci ho mandato un messaggio che mi hanno mandato i video a disposizione e poi facciamo fare una foto faccio immagini facciamo fare una foto un bacio a tutti quanti dopo a chi sta a casa e ragazzi un bacio allora ragazzi e ragazze vi amo e vi amerò sempre siete la mia amica vi do un bacione perché tante le persone sanno tornare di primavera anche un po' di l'arrivazione per le persone che sanno tornare perché anche loro sono le persone bravissime vi voglio bene a tutti ci vediamo domani ragazzi lì c'è l'esistenza in palazzo 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 a tutti e tutti vi amo a tutti dalla rossa marco s將ma unica e inevitabile unica e inevitabile vi amo buonasera